Il futuro anteriore è il progetto di ricerca associato al nostro centro che ha sede proprio qui a Modena e nasce con l'obiettivo di promuovere l'intelligenza artificiale attraverso metodi creativi e di frontiera all'intersezione tra più discipline. Nel tempo ci siamo accorti di quanto sia difficile gestire e comunicare la complessità di un progetto di intelligenza artificiale. I metodi e le pratiche che promuoviamo all'interno del centro di ricerca permettono di semplificare il processo di creazione degli algoritmi a vantaggio di chi sviluppa nuove soluzioni e di chi queste nuove soluzioni le utilizzerà nel quotidiano. Diffondiamo conoscenza tramite eventi e programmi di formazione. Disegniamo nuovi piani di sviluppo creativo degli algoritmi utilizzando tecniche di design thinking. Questo permette di rendere accessibili le nuove tecnologie a vantaggio anche e soprattutto di chi non dispone di conoscenze tecniche approfondite. Qui c'è una genialità. Ho visto come il dato, la matematica, prende colore e prende funzionalità. Perché quando si parla di intelligenza artificiale c'è sempre un fatto mistico mentre un computer è un fatto che puoi toccare. L'intelligenza artificiale, che tutti ne parlano, è indispensabile. Qui diventa realtà e diventa realtà nei processi produttivi, diventa realtà nei sistemi dell'istruzione e ho trovato veramente una genialità di chi dirige Ammagamma che è un patrimonio sia di questa città ma penso che sia un patrimonio di tutta la nostra regione perché poi l'emulazione di questi progetti fa quel grande campus di innovazione che sta diventando questa regione. La nascita di questo centro di ricerca per noi rappresenta un primo passo di restituzione verso il territorio che ci ha supportato in questi anni nella nostra crescita e pertanto questo laboratorio vuole accogliere le imprese, le aziende, le persone, le scuole nell'andare a capire che il dato non è solo un elemento fino a se stesso ma il dato va semantizzato, va relazionato, va reso emozionale e il dato ha un impatto. Pertanto noi vorremmo accompagnare i nostri interlocutori nel dare un valore ai dati e alle informazioni perché queste possono essere utilizzate all'interno delle loro attività, dei loro business, delle loro ricerche.